Dopo le critiche sulla dichiarazione di Miss Italia, Parma Teneo ha deciso di intervistare i ragazzi dell'Università di Parma per verificare il loro livello di cultura generale. Qual è la forma di governo italiana? La Repubblica. La Repubblica parlamentare. Repubblica. La democrazia. Qual è la capitale dell'ararchia? Istanbul. Ankara. Istanbul. Ankara. Perché cosa sta la sigla ISIS o IS? La Repubblica nazionale. Stato o islamico. Stato o islamico indipendente. Che cosa raffigura la Guernica di Picasso? La guerra civile spagnola. La guerra in Spagna delle buste spagnoli. Una città basca bombardata durante la seconda guerra mondiale. Bombardamento italiano avvenuto nel nord della Spagna, Guernica, nei paesi baschi. Per cosa è famoso Enrico Fermi? Enrico Fermi è una bomba nucleare. La visione nucleare. Non lo so. La data della caduta del muro di Berlino. 1989. 89. 1989. 1989. Quali sono le regioni a statuto speciale? Allora, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta, Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Sicilia, Sardegna, San Marino. Qual è il nome del rettore della Università di Parma? Borghi. Penso Borghi. Lawrence Borghi. Alzo le mani. Qual è invece il nome del ministro dell'istruzione? Giannini. 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 La volta era la Giannini. Gli abitanti di Parma si chiamano Parmigiani o Parmensi? Parmigiani. Parmigiani. E Parmensi. Parmigiani e Parmensi sono quelli della Parmensi. Parmigiani e Parmensi sono quelli della Parmensi. Parmigiani.